Giorgia Meloni lo aveva anticipato nei giorni scorsi durante una lunga intervista. Lei, la figlia Ginevra e l'ex compagno Andrea Giambruno faranno qualche giorno di vacanza insieme con Giorgia Meloni lo aveva anticipato per Ginevra. Per Ginevra. E ora tutti gli occhi sono puntati sulla masseria pugliese dove la presidente del consiglio e la sua bimba soggiorneranno in questo breve periodo di riposo, insieme, da quanto trapela, anche alla E ora tutti gli occhi sono puntati una scelta, quella di genitori separati che scelgono di condividere un po' di ferie per amore della figlia, promossa da L'impostazione che Giorgia Meloni ha dato alle sue vacanze 2024 dimostra ancora una volta la sua capacità genitoriale e la visione di Italo Farnetani. Professore ordinario di pedia L'impostazione che Giorgia Meloni ha dato alle sue vacanze 2024 dimostra ancora una volta la sua capacità genitoriale e la visione di Italo Farnetani. Professore ordinario di pedia L'impostazione che Giorgia Meloni ha dato alle sue vacanze 2024 dimostra ancora una volta la sua capacità genitoriale e la visione di Italo Farnetani. Professore Voto Se si fa una valutazione da 0 a 10 le attribuirei il massimo punteggio, cioè L'autorevolezza di Meloni era già dimostrata dal fatto che sembra riuscire a conciliare un impegno politico di alto livello con l'attività di madre. Quando è possibile, poi, porta la figlia con sé anche in viaggi ufficiali e si fa testimonial del principio che il lavoro femminile non è in contrasto con la maternità prosegue l'esperto riferendo. Quando è possibile, poi, porta la figlia con le sue scelte, a detta del pediatra. La premier evidenzia il valore che può avere per i figli vedere i loro genitori, persone impegnate nella società, muoversi con sicurezza nell'ambiente. Ora con la vacanza in Puglia, di nuovo ha centrato l'obiettivo, non solo ha dimostrato autorevolezza ulteriore, ma ha adottato un modo di agire importante che può essere usato come esempio. Ora con la vacanza in primo luogo nella gestione della separazione, argomenta Farnetani, è noto quanto sia traumatico per i figli questo pass. Trascorrere le vacanze insieme è un modo per dimostrare concretamente tutto questo. Trascorrere le vacanze insieme è anche per far capire che se fra i genitori l'amore può finire. Resta sempre la stima e il rispetto, anche per far capire che se fra i genitori l'amore può finire. Resta sempre la stima e il rispetto. Tornando all'estate della premier, la situazione che la piccola Ginevra sta vivendo in questi giorni è qualcosa di importante dal punto di vista psicoaffettivo. Continua Farnetani, di tornando all'estate della premier. Purtroppo nella maggioranza dei casi avviene il contrario, talvolta anche con gravi situazioni conflittuali che i figli subono. E quando c'è anche un loro coinvolgimento nelle diatribe fra adulti, soffrono d'opper l'esperto. Il secondo aspetto per cui Meloni merita un punteggio alto come mamma autorevole è l'aver scelto di trascorrere le vacanze in famiglia allargata, cioè insieme agli zii di Ginevra. Per l'esperto, si offre così non solo un indubbio apporto affettivo, ma anche ulteriori modelli di adulti utili a crescere. Ugualmente importante la presenza dei cugini, durante i primi anni di vita, all'inizio i bambini giocano essenzialmente con i genitori o con altri adulti, poi c'è la fase di gioco e condivisione. Ugualmente importante la presenza dei cugini, durante i primi anni di vita, all'inizio i bambini giocano essenzialmente con i genitori o con altri adulti, poi c'è la fase di gioco e condivisione. Ugualmente importante.